e allora innovazioni per un futuro più sano siamo in compagnia di l'UALTECH di cosa parliamo quando parliamo di l'UALTECH? Allora l'UALTECH è una startup che nasce nel 2021 a Comiso in Sicilia per aiutare un imprenditore agricolo amico ad avere più tempo libero e a trascorterlo più più serenamente per questo viene realizzato un sistema di monitoraggio e supporto alle decisioni che permette di implementare anche l'automazione sulla base dei dati rilevati in campo. Questo sistema è estremamente economico flessibile perché è modulare può essere implementato anche senza copertura internet non ha bisogno di elettricità e quindi installazioni varie e per tornare al punto di partenza permette all'imprenditore di monitorare e gestire la propria cultura da remoto ovunque esso sia. Ospite Medendi che quanto ha innovazione per un futuro più sano c'è dentro fino al collo? Medendi è una piattaforma digitale rivolta a pazienti oncologici che sono la ricerca di percorsi terapeutici specifici per trattare la propria patologia e abbiamo coniugato un comitato scientifico di oncologi e ricercatori oncologici di fama internazionale che ci hanno dato la possibilità di selezionare quelle che sono le migliori diagnostiche al momento presenti sul mercato globale e il tutto è coniugato da un tool di intelligenza artificiale che ci permette di elaborare quelli che sono i percorsi più adatti per lo specifico paziente. Innovazioni per un futuro più sano forse possiamo quasi considerarlo come un mega trend insomma per il 2024. Siamo in un momento storico in cui c'è molta attenzione, anche se forse ce ne dovrebbe essere di più, alla sostenibilità ambientale, al preservare il pianeta in cui viviamo e l'obiettivo è appunto un pianeta più sano in cui di riflesso anche noi che ci viviamo possiamo essere più sani, possiamo viverci meglio. Noi come Mama Crowd cerchiamo di adeguarci al mercato da andare a selezionare e a portare sulla piattaforma aziende che che meno o meno provano a contribuire al raggiungimento di questi obiettivi importanti. Sia l'Uvaltech che Medendi che anche se siamo in mercati diversi con delle modalità diverse, ma hanno un obiettivo comune che è un futuro più sano, una sul mercato agricolo più sano e l'altra Medendi invece per le persone malate.